Siamo e sia se siete contenti di essere presenti, sia se vi dispiace, il merito, la colpa è tutta di questi due signori, Francesca, eccole qua, sono loro che stanno spendendo il nastro e daranno il via, anche se il bossiere ufficiale sarà la giovanissima Giulia. Eccoci alla Cori Subiaco. Ma poi, appena avrete il preguardo alla premiazione, ci sono grandi novità, grandi notizie, ma un minimo di suspense e affrontate al meglio la vostra gara. Allora, ci siamo? Abbiamo l'ok, ricordatevi al termine della gara, dovrete restituire il circo. Allora, seguite la bandiera di colore di Giulia, meno 5, 4, 3, 2, 1, invia la prova, in bocca al lupo. Grazie di essere presenti, saluto, Coli Subiaco, prima edizione, Urban Race. Eccoci, 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 mi buca al lupo. Grazie.